stiamo andando a spiare le nostre mamme che stanno schimando le cose perché i fanni dobbiamo essere riccati ue ue giro babbo super forzuto paddock come potete vedere indescrivibili e là ci sono le mamme aron le mate non si vede c'è babbo molto affaticato perché da quella tavola c'è aron eccole eccole dove andiamo di nuovo maneggio al bobolino e niente ora bisogna aspettare un po poi si va abbiamo portato via delle tavole del paddock dove erano prima gli altri pony e i nostri pony sono già partiti da tipo 20 minuti infatti prima non saranno nemmeno altra strada no almeno magari al prossima gara quando ero 17 18 19 campionato ponte d'era di categoria poi c'è la 60 almeno ti vengono a vedere la traccia hop e mondo c'era le staff di quando ero piccolo che montavano di di noi magari mettila in un altro posto cosa ne pensi di fiera cavalli non lo so ci sono andata bianca noi trasferiamo anche baby ma guarda lecce per la mazzoni ci verrebbe volentieri metti mettiti alla sua destra di qua bravissima si seguiamo si taccia si seguiamo non si abbandoniamo bravissima 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.